musica 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 bene ragazzi sono piccio e ben tornati in questo nuovissimo video raga allora oggi siamo su omegol sperando di non censurare cose strambe avete già capito raga oggi chiederemo alla gente quanti anni di mostro secondo loro raga questo video l'ho tra virgolette rubato a dalle clasher raga link in descrizione del suo canale il nuovo youtube è veramente veramente bravo ha più di 6.000 iscritti e link in descrizione del suo canale e qui dovrebbe comparire su instagram raga seguitelo tutti perché veramente veramente bravo niente dopo questa cosa direi di continuare con il video niente direi di iniziare con il primo buongiorno buongiorno siete su un video allora aspettate quanti iscritti hai? non ne ho tanti ne ho 1660 un attimo una domanda secondo voi quanti anni di mostro? ecco questo 13 14 allora quindi tu col cappellino ne dici 14 giusto? tu con tutto imboscato quanti me ne dai? 13 e quello dietro? quello dietro ne da 13 13 hai indovinato quello dietro a destra alla mia destra 14 ciao buongiorno secondo te quanti anni ho? tredici quattordici va bene tentativo hai sbagliato vabbè ciao ciao buongiorno buonasera quanti anni mi date? dodici dodici? figa così pochi? cazzo vabbè quattordici quattordici una domanda che è nel video secondo voi quanti anni ho? eh aspetta allora dalla voce quattordici si vai quattordici 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 esatto perfetto niente grazie a vostro tempo arrivederci ciao buongiorno anch'io voglio asserci una domanda quanti anni mi date? dieci porca tro- ok no dai dodici per essere buoni figa son duemila e cinque no quattordici ciao ciao allora aspetta una domanda quanti anni mi dai? 11 11 11 no ne ho quattordici youtuber uno streamer ma ciao buongiorno c'è uno streamer? youtuber allora secondo quanti anni mi date? eh 12 13 no 17 anni figa no dai 14 ok hai indovinato 14 anni no ti pregano che schifo buongiorno buongiorno allora mi sente lei giusto? si la sento ok perfetto quanti anni di mostro? cioè secondo lei quanti anni ho? 11 11 figa ciao 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 allora secondo te quanti anni ho? per me 10 10 ah questo fa male no ne ho 14 mi spiace ha sbagliato ma ha detto quello dietro? no lo sapevo di non metterlo dietro no via via che schifo no 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 ciao 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 ma guarda se ne 10 è molto ciao 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 secondo te quanti anni ho? ehm 14 oh hai indovinato gg niente ciao 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 siamo youtuber esatto allora aspetta posso metterti nel video? sì sì scialla perfetto allora quanti anni mi dai? 14 perfetto direi no no censura censura sono troppo brutta per youtube va bene va bene allora una domanda quanti anni mi date? mi sembra un coltano di mio frate ehm ah 2006 13 hm 2005 14 vabbè dai vabbè niente grazie arrivederci ciao ciao caro sei youtuber? sì oh finalmente una persona adulta che non mi schippa e non mi fa vedere il c***o no aspetta sto registrando in questo momento ah stai registrando proprio allora un saluto al canale allora una domanda secondo te quanti anni ho? hm 12 sei andato vicino ma ne ho 14 e niente raga questo video si conclude qui come sempre vi ricordo di lasciare un bel pollicione su iscrivetevi al canale e lasciate un commento ho trovata molta gente simpatica ad esempio l'ultimo è stato veramente gentile e simpatico se pure iscritta attivate pure la campanella fatelo anche voi mi raccomando lasciate like e niente raga ci vediamo ad un prossimo video bella campione ciao 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 Grazie per la visione!